Per noi di Alamda è un bene comune, come tale, come siamo detti, media di essere aperto a tempo indeterminato. Il volontariato per noi è l'odevole, tra l'altro voglio subito qui mettere giusto un punto di chiarezza sulle cose che sono successe, chi si segue i social network avrà notato che ci sono effettivamente due gruppi pronti, due gruppi che fanno movimento intorno al Vodipo. Un gruppo è questo di Alamda, e oggi vi parlo molto brevemente dalla nostra proposta, poi chiederemo la parola all'assessore. L'altro gruppo è un gruppo, diciamo, un po' più piccoli, come età, sono alcuni utenti del Vodipo, non tutti sono utenti del Vodipo, e loro propongono un'autogestione. L'idea per noi l'abbiamo trovata molto romantica e affascinante, questa idea di autogestione, per carità. Però, come dicevo prima, riteniamo che non è percorribile, perché il personaggio del volontariato è instabile. Detto questo, possiamo dire che non è soltanto una nostra idea, una nostra avvistazione. Il volontariato è stato già applicato. In le mille chiusure che ha subito il Vodipo, si è adottato il volontariato per poterlo gestire. Fu affidato al funzionario Aldo Memoli, il quale partì con 30 volontari. E si troverò, si troverò, no, non sono tutti rapporti, mi dispiace. Ah, è andato bene. Lo dici solo tu, mi dispiace. E' andato bene. Aldo Memoli raccontava di essere partito in 38, 29, 30, e di essere si trovati con Antonio e con altri ragazzi volenterosi, che arrivavano a 3, 4 persone, e con una grossa difficoltà in gestione del Vodipo. Chi ha detto? Detto questo, siccome le presenze sono state prese e sono giustamente, ero un ufficio pubblico, perché anche qui le presenze andavamo a registrare, sono tutte le comunitarie, purtroppo con l'autogestione, con il volontariato, il Vodipo da l'incontro ha grosse difficoltà. C'è il favore, siamo qui per ascoltare, poi tutte le... Io non posso parlare, a me non vi potete ascoltare. Non è questo, non è questo, perché vieni ad Arambe, nell'Aranza, lì possono parlare tutti quanti, oggi qui... Non parli solo di oggi. Sì, funziona così. Funziona così, volevo dire, non... Ci sono dei momenti in cui parliamo, dei momenti in cui facciamo presentazioni, stavamo dicendo. Quindi, questi fatti accaduti, che non sono opinioni, ci hanno portato a pensare, solo nell'interesse del Vodipo, non per altro, non perché ci siano pregiudizi, che probabilmente il volontariato non è la strada migliore. Allora abbiamo pensato, ci siamo istruiti grazie ad Aldo Memoli, che più o meno ha seguito il Vodipo dalla sua nascita fino ad oggi, e abbiamo preso tutti gli elementi conoscitivi che ci servivano e abbiamo tirato fuori questa proposta. Ecco perché sul volontariato c'è questo nostro dissenso. Come dicevamo, le associazioni nemmeno ci convivano perché sono soggette a rinnovo e troppo spesso, purtroppo, assumono laboratori al nero sotto forma di volontari e di volontari quali, siccome sottopagati, abbandonano il lavoro, se così si può chiamare, o lavorano male, perché purtroppo i soldi sono sempre pochi in questi casi. Quindi se il Vodipo deve avere, come noi pensiamo, dei prezzi popolari, allora esso è naturalmente antieconomico. E nessun privato, l'associazione cooperativa potrà mai sossegnare costi superiori ai guadagni. Questo, insomma, è abbastanza semplice da intuire. Quindi Aram ha lavorato a questa soluzione per garantire la riapertura del centro che rimane stabile e duratura. E soprattutto, cari, ad un costo sostenibile del Comune, perché siamo perfettamente consapevoli che soldi o non ce ne stanno, ce ne stanno pochi. Quindi, fondamentalmente, fare una proposta dove si sparava 30.000 euro per la gestione significava non fare nessuna proposta e fare soltanto polemica. Quindi il lavoro è stato fatto in tal senso. Facciamo due semplici punti. Il Vodipo ha necessità di restare aperto 5 ore al giorno per 5 giorni lavorativi. Queste, diciamo, sono informazioni che noi abbiamo tirato fuori da chi il Vodipo l'ha gestito fino ad oggi. Stefano Rubino e altri, diciamo, altri operatori, compreso Aldo, ci hanno raccontato che, ovviamente, prima il Vodipo era aperto 5 ore al giorno per 6 giorni lavorativi. E il sabato aveva un'estensione di altre 2 ore, quindi erano 32 ore settimanali. Fondamentalmente le ore non venivano sfruttate tutte. Anzi, capitava dei giorni che non ci andava quasi nessuno. Il sabato, in particolare, c'era una difficoltà, perché i ragazzi, giustamente, si organizzavano pizza, birra o gli amici e quelle 2 ore rimanevano, diciamo, o là davanti o comunque non erano che venissero sfruttate le 2 sale. Quindi abbiamo pensato ragionevolmente che 5 ore per 5 giorni lavorativi da lunedì e a lunedì siano sufficienti. Quindi il totale 25 ore settimanali che fanno 100 ore, tonde tonde, al mese di apertura necessaria per il Vodipo. Per avere aperto il Vodipo abbiamo bisogno di un risorso umano e per essere stabili, come ci siamo detti, esse vanno pagate, hanno un costo e del resto chi lavora, chi lavora va sempre pagato. Noi ad Arambe siamo convinti di questa cosa, che chi ci piace è il volontariato. Però chi lavora va pagato. Il Comune dicevo, come abbiamo detto, non ha la possibilità di assumere il muro personale, almeno per ora, in quanto la legge di stabilità, come abbiamo detto ieri, impedisce. Quindi per adesso il modo migliore per reperire risorse umane stabili è cercare nel suo organico tra gli impiegati comunali. Noi in pochissimo tempo, perché ovviamente in questi giorni, in questa settimana abbiamo fatto un po' di giri, un po' di telefonate per capire se stavamo dicendo una fesseria basata sul nulla, o se stavamo effettivamente proponendo qualcosa che avesse un fondamento. Abbiamo fatto un po' di telefonato, parlato, e poi persone come me io suono, dopo di cui c'è tutti i strati, c'è poi c'ho fatto le prove, e quindi conosco un po' l'universo dei musicisti, che sono stati suono, dei musicanti, dei musici, e quindi sappiamo che all'interno del Comune ci sono moltissimi dipendenti che hanno la passione della musica, che con una certificazione e con un avviso di disponibilità, quelli famosi intervi che si fanno all'interno del Comune, c'è la possibilità di chiedere a questi dipendenti di venire a fare dello straordinario volontario. Ora, io ho chiesto tramite anche un consigliere comunale di chiedere al ragioniere Capo se questa strada che stiamo proponendo fosse possibile. Il ragioniere Capo ha risposto che è difficile da articolare, ma è assolutamente percorribile. Nel senso che c'è bisogno di un lavoro dietro per articolare, fare dei regolamenti, fare l'avviso di disponibilità e tutte le cose, diciamo, di cui c'è bisogno, però io credo che un investimento in tempo e di lavoro possa, il gioco possa dare la candela. Dicevamo, il putibu forse sarà andato avanti un po' da solo, è vero? Sì. Mi direi, scusa. La legge, dicevamo, mi direi per la legge. Quindi per adesso il modo migliore, come dicevamo, è assumere, diciamo, lo meglio usare lo straordinario dei dipendenti comunali. Noi in pochissimo tempo di impiegati disponibili a questa proposta ne abbiamo trovati già cinque, uno ogni giorno della settimana. Sono persone che suonano, qualcuno anche qui in sala, sono persone che ci hanno detto a voce, non presenza di impegno formale, ci hanno detto noi siamo disponibili, lo faremo con piacere. Quindi evidente, insomma, la possibilità c'è. Venendo ai punti, che sono le cose che più ci interessa, il putibu ovviamente produce entrate e uscite. Le uscite sono, ovviamente, il personale per l'apertura e le entrate, in particolare, sono il pagamento dell'utenza dell'affitto delle due sale. Vediamo le uscite nel dettaglio. Un'ora di straordinario indipendente pubblico costa circa 13 euro l'orde, che per 100 euro al mese sono 1.300 euro, che all'anno sono esattamente 15.600. Come dicevamo, però, come tutti sanno, abbiamo pensato, ne abbiamo parlato anche con le persone che si sono dette disponibili, che gli straordinari possono essere attribuiti sia in forma di liquidità sulla busta paga, ma anche in riposo compensativo, cioè a parte delle ferie. e volendo fare una percentuale ragionevole, il 70% dovrebbe ritornare in busta paga, il 30% e, con le persone con cui abbiamo parlato, si sono detti completamente disponibili, farlo ritornare in forma di riposo compensativo, a pari delle ferie. Quindi, i 15.600 euro, meno di proprio il 30%, restituendo soltanto il 70% in busta paga, diventano 10.920 euro all'anno. Ora, l'entrata, su 100 euro al mese a disposizione, per essere, diciamo, a disposizione, noi per essere realisti, abbiamo pensato che se ne fitterebbero soltanto il 75%. Poi, se se ne fittano di più, tanto meglio, il QTV, costa ancora di meno. Questo, però, sicuramente rappresenta un ingresso per il QTV abbastanza sostanzioso. Una sala ad oggi produce 2,50 euro ogni ora, portando il prezzo a 5 euro, esso rimanerebbe comunque agevole e sostenibile. Qui ci sono state alcune polemiche, però, noi riteniamo che un gruppo musicale di 4 giovani spenderebbe per un'ora 1 euro e 25 centesimi. Ma se ci portano i soldi, quello non sta a un piccolo guadino e non si facciano a provare. Non trovo, ci prendiamo. Portando da 4 soldi, quello non è il muovo. Stavo dicendo, un gruppo musicale di 4 giovani spenderebbe per un'ora 1 euro e 25 centesimi. Che sarebbe, praticamente, insomma, per capirci, 1 euro e 25 per un giovane, io non credo che sia un lusso o qualcosa. Mettino le tene, cinghiera, non vede su un'ora. Non so se ti hanno mandato qua. No, non vede su un'ora. Mettino le tene, cinghiera, non vede su un'ora. Sì, abbiamo spesso. Non vede su un'ora, non vede su un'ora. Non vede su un'ora. Abbiamo le siena nostre per poter parlare, quando vuoi dire, non lo sai. Stavo dicendo. La campagna, le alza a base, non vede la tua. C'è un'ora sentita a te. Allora, diciamo, un gruppo musicale di quattro giorni spenderebbe per un'ora 1 euro e 25 centesimi. Non sarebbe un lusso. Io ci voglio un po' di predesposità nel pensare che 1 euro e 25 per un'ora per un ragazzo è esagerato e che va bene soltanto per professionisti. Io credo che 1 euro e 25 per un giovane per provare un'ora significa che se si vuole dare a provare una volta a settimana, io suono, credo che spendere 4 o 5 euro al mese per un giovane non sia un dramma. Penso che sia un po' alla portata di tutti. Io sono molto attento alle politiche sociali, alle classi anche più deboli. Purtroppo però le classi più deboli sono anche quelle più facilmente confundibili e strumentalizzabili. Quindi il prezzo resterebbe comunque un prezzo politico. Non stiamo parlando di, diciamo, per dire, una sala brutta minarda costa 20 euro all'ora. Questo è il prezzo. Quindi si ficherebbe il 25 per cento del prezzo. Pensate, sono due. Quindi produrrebbero 10 euro ogni ora per 75 ore al mese. fanno 750 euro di introiti in mensile per un totale di 9.000 euro all'anno. La sala di intrattenimento. La sala di intrattenimento invece lì è molto bella e confortevole. C'è un TVT, c'è una televisione molto grande. Potrebbe essere tranquillamente fittata come succede per la sala in cui stiamo stavendo adesso. Questa sala costa attualmente 30 euro per il pomeriggio. Lì si potrebbe fare un prezzo molto più basso, fittarla nei giorni di chiusura o nelle mattinate per incontri provando per sbagli ragazzi il regime di autogestione. Come si fa per questa sala? Già si fa e per la sala della sala nostra. La sala di intrattenimento potrebbe essere affittata nel regime di autogestione che già avviene da anni per la sala dei convegni, del palazzo già due giorni di sabato e domenica sono liberi insomma è del tutto ragionante. Ora 9.000 euro di introiti dall'affitto delle sale più 500 euro dall'affitto della sala di intrattenimento fanno un totale di 9.500 euro di introiti per il comune. Abbiamo appena calcolato che le spese per tenere aperto il PTV sono pari a 12.920 sottraiamo le 9.500 fanno 1.420 euro all'anno. Sono 1.420 euro all'anno per tenere aperto un servizio che noi di Arani chiamiamo di eccellenza un orgoglio di efficienza di efficacia pubblica un luogo in cui si produce cultura perché fondamentalmente si registra in quel posto rimanono delle tracce che poi restano per sempre. Qualcuno vorrebbe impiettare che ci sono le spese di materiali consumabili cioè i jack le pelibatterie eccetera oltre che a 1420 sono già abbastanza sufficientemente poche le spese per peli e jack sono abbastanza basse. Ci sono tanti altri modi tra l'altro di incassare il necessario noi su questo non ci siamo avventurati perché poi eventualmente dovesse prendere questa per buona questa soluzione l'assessore a lui non mancherà di trovare anche altre tra l'altro gli uomini abbiamo la stessa età di trovare altre soluzioni per altri ingressi fra cui abbiamo pensato a fare una gara d'appalto ovviamente costerebbe fare i vari costi su cui noi non abbiamo parlato però una gara d'appalto per distributori automatici che farebbero pure un posto frequentato da giovani a qualunque società o un hotspot wifi a prezzi popolari visto che lì c'è un punto interno del comune mettere un antennino e con un euro al ragazzo al mese per utilizzare il wifi con 50 ragazzi non già 600 euro all'anno quindi sarebbero altri introvi stavano dicendo quindi per la gestione della stalla prove c'è bisogno di una persona specializzata così da non fare danni cioè per la stalla prove può andare nella gestione chi va monta gli strumenti e suona la stalla prove ha necessariamente bisogno di un tecnico del suono perché qui c'è un tecnico del suono in sala che giunti in mente ci ha aperto stasera la modificazione e lo ringraziamo per la gestione della stalla prove c'è bisogno di una persona competente per la stalla di registrazione perché è molto facile fare danni cioè diciamo un finale e diciamo creare danni alla strumentazione che c'è che forse non moltissimo basterebbe semplicemente creare un albo di accreditati di fonici accreditati che hanno un minimo di riconoscimento che dovrebbe essere una qualifica professionale come quella che Francesco ha preso il pomigliano d'arco oggi sono l'audio di tecnico del suono queste persone ovviamente sarebbero poi avrebbero un momento in più per lavorare e in cambio al comune restituirebbero un prezzo popolare per i ragazzi oggi magari un ponico costa 15-20 euro all'ora un ponico diciamo di buon grado con 7 euro approssimativamente garantendo un prezzo attorno a 7 euro potrebbe garantire ai ragazzi di fare un cd con pochissimi centinaia di euro quindi per la strada comunale come dice i tecnici del suono attualizzati a cui iscriversi liberamente i tecnici del regolamento dovranno praticare prezzi agevolati ad esempio 7 euro all'ora più che l'eventuale ritenuto dal conto chi quando è comune non può assumere una persona destinata a tutti i punti inchievo per risorse umane quindi in conclusione già presente è la strada più sicura questa nostra proposta è il miglior modo per realizzare un servizio stabile a meno di 2.000 euro all'anno quindi adesso diciamo una cosa è certa dopo questa proposta nessuno ci dica più che il PTV non si può riaprire cosa che è stata detta nel passato da altri assessori e da altre amministrazioni e se il PTV è stato chiuso è solo un fatto di volontario ma da questo punto qualcuno dovrà assumere una responsabilità politica noi di Aramber siamo certi che riaprirà io vi ringrazio per l'attenzione questa è la nostra proposta io adesso voglio passare la parola a Carmine con il quale ci conosciamo come vedete c'è quel ragazzo che sta a dire due parole per forma democratica non vorrei che se ne andasse con l'idea che non è gradito no non vorrei che non è gradito ti direi una cosa ci sono momenti nostri di grande democrazia ogni settimanale la volta è più settimanale in cui si può parlare noi oggi non avevamo non avevamo previsto il dibattito proprio perché è una persona di statistica sì il problema qual è che so benissimo che quando andrà male si tratta solo di una polemica stessa perché purtroppo in questi giorni paradossalmente per chi non lo sapesse abbiamo subito diciamo anche sui social network grossi attacchi di carattere anche personale per l'unica colpa e questa è una cosa che mi rammarica perché ho una cultura politica completamente opposta io sono cresciuto e ho radici politiche democratiche che devono permettere a chi io morirei per far dire le cose su cui non sono d'accordo e invece mi sono trovato con persone che siccome non la pensavamo come loro queste persone praticamente volevano volevano tapparci la bocca e dicendere siccome la ramba la bocca non la tappera mai nessuno e allora se vengono qui e pensano che facendo un po' di provocazione poi hanno diritto la parola quando vogliono la ramba è caperta a tutti c'è il nostro manifesto fuori non c'è discoglio di nulla basta presentarsi chi è venuto che lo sa vengono parla e c'è uno quello che pensa questa proposta non nasce da un atto di imperio da mano militare nasce da un lavoro di un gruppo che si è costituito pubblicamente venti giorni fa se qualcuno aveva qualcosa da dire non aspettava il giorno della pubblicazione e del discorso con l'assessore veniva in quei giorni e ci diceva io non sono d'accordo su questo su questo su quest'altro noi siamo stati aperti solo per questo non è per cattivare io so benissimo che la tua idea viene da uno spirito fortemente l'emocratio però noi siamo amanti anche delle regole quindi le regole vanno rispettate è importante oggi ce ne sono si rispettano sempre io quindi arrivato a questo punto come abbiamo detto oggi con Carmen in questa salvo ci trovavamo a parlare dopo insieme da parecchio tempo probabilmente dalle manifestazioni contro la guerra della prima guerra che è un'esercizio che correva l'anno 1992 e con Carmen condividevamo negli anni 90 c'era Francesco di un'esercizio di un'esercizio noi provavamo in liceo e avevamo modo di fare politica c'erano altri che si divertivano a distruire le persone e farle entrare a giocare aeree avete fatto un bagno elettorale insieme per che erano si poi non se stanno con gli anni sono divisi ma c'è un confine dal comune sicuramente l'amore l'amore per la politica rispetto sempre per l'interruzione pensavo si l'amore perché è la allora ringrazio prima di tutto l'invito un saluto da tutto il movimento di Arambè e credo che questo sia il modo giusto anche per affrontare le problematiche che poi in qualche maniera ci accomunano tutti io vorrei fare una piccola premessa sono dal 18 di giugno delegato al Sessore e ho voluto faccio questa premessa e poi parlo anche di Putipù inserire all'interno delle mie deleghe rapporti con le associazioni politiche giovanili informagiovani Putipù lotta la devianza giovanile sport spettacolo e turismo e quando ho chiesto perché le ho chieste queste deleghe siccome ho fatto più volte anche il delegato ritenevo che queste sono le deleghe il fulcro per l'immagine anche della stessa città e nello stesso tempo le deleghe più importanti non me ne voglia nessuno credo che in questo momento sono deleghe anche più importanti dei lavori pubblici e di qualsiasi altra cosa perché su questo è che noi giochiamo una partita importante perché ho detto queste deleghe perché la mia idea è quella credo se ci riesco insomma se riuscirò a portare avanti è quella di costituire una cabina di legia dove tutte queste deleghe devono in qualche maniera poi essere loro le protagoniste e anche i finanziamenti regionali perché più volte insomma si chiedono finanziamenti alla regione ma per le deleghe che sono state sempre non affidate ad uno stesso assessore poi magari gli obiettivi erano diversi ho commissariato la prologo e quindi diciamo da qui a pochi giorni vedremo dei manifesti dove ognuno di voi può partecipare al tesseramento di questa prologo e nell'assemblea che si farà poi si costituirà questo si costituirà la prologo perché? perché dico la prologo perché la prologo dovrà essere quella che dovrà raccogliere le idee di tutte le associazioni attraverso un coordinamento che farò un coordinamento delle associazioni e tutto ciò che materialmente gestisce l'assessore in questo momento improprio delegerà queste risorse alla prologo e allo stesso coordinamento delle associazioni per far diventare poi a quel punto primi attori i giovani cosa che io mi sono speso spesso nell'ultima campagna elettorale che abbiamo fatto ero in una prima fase candidato sindaco ho fatto un mio programma e su quel programma ho individuato proprio uno dei punti fondamentali in giovani passo al putipù il putipù io ho una delle prime interviste che ho fatto ho detto il putipù mai si chiuderà perché è un come ha detto Fabrizio un progetto di eccellenza perché in regione campagna credo nemmeno solo in regione campagna è l'unico centro che è così organizzato ricordo bene all'epoca quando facevo già il delegato e c'era diciamo la bonaima di Dino Lombardi che è stato uno che si è speso molto e ha aperto questa struttura e che con Aldo ricordo bene iniziò la gestione con un'associazione che si chiamava Free Music quindi affidata a questa associazione è stata lì ai martiri e diciamo era un progetto iniziale che si manteneva con le risorse del comune e quindi poi diciamo volta per volta con il loro impegno e con gli impegni dei ragazzi come ben hai fatto vedere e ha raggiunto un livello molto buono due anni fa tre anni fa due anni e mezzo precisamente questo centro del putipù ha avuto un finanziamento regionale un finanziamento regionale dove si sono svolte oltre alle attività di ordinaria di amministrazione che è quello della sala di registrazione delle sale prove una serie di attività dove per di la verità ho portato anche un po' l'elenco perché sono parecchie e nell'offerta dell'elenco dei servizi che offriva questo centro c'era la funzione dello spazio per la migliorazione del gioco degli scatti e delle carte l'utilizzo delle postazioni di internet l'uso della strumentazione della sala e dell'attività ordinare di sala registrazione e sale prove lezioni di musica con il maestro centro di ascolto aperto agli utenti e alle famiglie corsi di educazione alle salute rivolte ai ragazzi servizio di orientamento scolastico professionale poi c'era la formazione dei docenti incontri con gli educatori io partendo da questo che ho detto devo far continuare queste attività che ci stanno all'interno del Pudipo non deve essere soltanto il centro che fa sala di registrazione e quelle che sono le ordinarie amministrazioni del Pudipo ma devono continuare a esserci perché poi in questi due anni sono state diciamo affiancate a queste attività 5 funghi professionali che per due anni hanno svolto questa attività gli incontri per la formazione dei docenti diciamo una serie di cose che poi matrimonialmente potremmo anche avere l'occasione per individuarne una per una il prezzo e il costo di questo progetto era un costo che l'amministrazione comunale ovviamente non può sostenere è un costo molto alto un finanziamento di 160.000 euro diviso in due anni quindi effettivamente è tantissimo ho verificato su quelle che sono le nostre disponibilità di risorse finanziarie su un capitolo dedicato proprio per l'aggregazione delle politiche giornalini del 1469 abbiamo 7680 quindi ho subito individuato quella somma da mettere a disposizione per il centro Pudipù che sono 7680 che cosa è successo perché abbiamo fermato il centro Pudipù lo abbiamo fermato perché a dicembre scadevano i contratti per quanto riguarda le 5 figure professionali ho visto quelle che erano le risorse che erano rimaste ho dato la trasferibilità di altri due mesi a queste 5 figure professionali e che scadevano il 10 di febbraio sapete tutti che il 10 di febbraio poi abbiamo avuto quel tempo di neve insomma che ha bloccato tutta la città per 15 giorni siamo arrivati il fine febbraio e da lì ovviamente siccome era tutto bloccato il comune era bloccato io non ho avuto l'occasione per poter in qualche maniera riaprirlo immediatamente avevo già le idee chiare ho fatto un comunicato stampa ho cercato di verificare tutte quelle che sono state la vostra proposta la proposta degli utenti del foro credo che era uno rappresentante anche quello che è venuto qui all'interno di questa riunione e un'altra abbiamo tre proposte una proposta è venuta dall'associazione music art un'associazione che è di Nicolino Squaccio e che colui che è il maestro di musica che già ha avuto la sua esperienza per due anni all'interno di questo centro putitura ho detto guarda la tua proposta io la vedo una proposta interessante perché mette nella disposizione del putitur un maestro di musica un tecnico del suono e un educatore ciò significa che noi potremmo continuare a fare le attività che già metti nelle due anni senza però ovviamente abbandonare l'idea che ci sono altre proposte per cui nel comunicato che ho fatto ho detto scusatemi se c'è la possibilità in modo volontario e gratuito di compartecipare con il movimento Arantè con il forum dei giovani con l'informa giovani con magari gli utenti del forum che benvenga questa collaborazione l'importante è che ognuno insomma con la sua diciamo disponibilità ci crea una condizione da migliorare quelle che sono eventualmente le attività all'interno qual è il costo che ci viene verificato anche quelle che sono quelle che è stata la vostra proposta e poi entro anche nel mezzo della vostra proposta quella proposta che io sto portando avanti perdendo per buono quello che mi hai detto nel senso che si recuperano circa 9000 euro all'anno dagli entrati delle registrazioni questa associazione ci dice noi apriamo 6 giorni a settimana 4 ore al giorno da martedì mercoledì giovedì sabato e domenica con le tre figure professionali di cui abbiamo il tecnico del suono il maestro e l'educatore ad una cifra di 1300 euro al mese ciò significa che come comune noi ci andremo a rimettere circa 6 mila euro o 7680 sul capitolo che ho dedicato a questa attività quindi significa che noi continueremo a fare l'attività che c'era prima senza che in qualche maniera noi non il vostro impegno è quello che dovrà esserci all'interno della nuova attività che partirà da voi se eventualmente c'è un vostro rappresentante che può in qualche maniera darci a mano che benvenga io mi sono preoccupato nella convenzione che approverò domani mattina di proposito perché potevo anche approvare la mercoledì però ho preferito venire prima in assemblee per decidere insieme se è possibile anche in questa formula nell'articolo 8 poi ho messo questo al fine di realizzare azioni di coordinamento e supervisione delle attività viene istituito un apposito comitato composto dall'assessore Arrano a del comune di Ariano che lo presiede dai responsabili del comune del servizio da un rappresentante dell'associazione affidataria da un rappresentante dell'associazione sono permessi non sono scritte Aranglie non che da un rappresentante designato dal proprio interno del forum del giovane e uno dell'organismo degli utenti del forum del PUTPU organizzando questo comitato di supervisione per quelle che è la programmazione che si fa settimana per settimana ritengo che facendo con questa formula metteremmo una collaborazione diciamo un po' di tutti se da parte vostra c'è questa disponibilità io personalmente la prendo per voi e domani mattina visto e considerato che l'ho fatto già il passaggio con il presidente del forum del giovane con gli utenti del forum è un po' difficile parlarci della verità ci ho provato sono venuti anche all'interno del consiglio comunale gli ho detto che se mi aspettavano potevo del PUTPU però là è un po' difficile in qualche maniera quasi impossibile della verità quindi se c'è questa disponibilità io domani approvo questa di libera e credo che i tempi necessari per far filmare la convenzione ma già dalla settimana prossima la riapertura del PUTPU non è che non ho preso in considerazione il ragionamento dei 5 dipendenti i 5 dipendenti della proposta perché stamattina sono stato dalla segretaria e mi diceva che tecnicamente non è possibile perché l'ammontare complessivo delle ore di straordinario che paga il comune sono circa 30.000 euro e il massimo che un dipendente può fare di ore straordinarie in un anno sono 24 e non possono andare oltre per cui gestire le 100 ore settimanali che avete voi proposto non è più possibile in 4 merita con la partecipazione dei 5 ma soprattutto perché poi deve essere superata anche in un altro momento il momento della delegazione tra tanti perché sapete benissimo che per quanto riguarda le ore di straordinario vanno decise con i sindacati e con la delegazione tra tanti oltre a questo visto che già non c'è la possibilità perché 24 si mi fanno la possibilità per dirige